non avevo particolare bisogno di essere convinto se devo essere sincero anzi io credo che a parti invertite sinistra non si sarebbe presentata in parlamento per un'inchiesta di un qualche tipo ma io non mi ricordo aver visto zingaretti in parlamento per le mascherine di aver visto qualcuno in parlamento per i banchier hotel sono troppo buoni secondo me